Avete mai pensato da dove veniamo noi umani? Come vivevano i nostri antenati millenni fa? Oggi ci immergeremo in un viaggio avvincente per esplorare le origini dell'umanità, concentrandoci sulle ere paleolitica e neolitica. Prima di iniziare, lasciate che vi dia una panoramica di ciò che vedrete. Esamineremo l'era paleolitica, nota anche come antica età della pietra, in cui i nostri antenati erano cacciatori raccoglitori nomadi. Successivamente ci addentreremo nell'era neolitica, la nuova età della pietra, che segnò una svolta fondamentale nella storia umana. Scopriremo le caratteristiche, le innovazioni e l'impatto di questi periodi cruciali per la nostra specie, con l'obiettivo di comprendere meglio le nostre radici e il percorso che ci ha portato fino ai giorni nostri. L'era paleolitica, che ebbe luogo da circa 2,6 milioni di anni fa, fino a circa il 10.000 a.C., è caratterizzata dallo stile di vita dei cacciatori raccoglitori, dipendenti dalla caccia e dalla raccolta di piante selvatiche per sopravvivere. I nostri antenati affrontavano sfide quotidiane, tra cui climi avversi e predatori pericolosi. Tuttavia svilupparono strumenti innovativi come asce a mano e punte di lancia per la caccia e la difesa. Durante il paleolitico emersero forme primitive di arte e simbolismo, come pitture rupestri e sculture. Inoltre si svilupparono le prime strutture sociali all'interno delle comunità di cacciatori raccoglitori, con divisione di risorse e rituali comuni. L'era neolitica, che iniziò circa 10.000 anni fa, segnò una rivoluzione nell'umanità, con il passaggio da uno stile di vita nomade a comunità stabili basate sull'agricoltura e dell'addomesticamento degli animali. Gli umani impararono a coltivare cereali come grano e orzo e ad addomesticare animali come pecore, capre e bovini, portando a una maggiore stabilità e disponibilità di cibo. Con l'agricoltura nacquero insediamenti stabili e permanenti, insieme allo sviluppo della ceramica per la conservazione del cibo e alla specializzazione del lavoro. Questo portò alla nascita di artigiani, mercanti e governanti, creando una complessa struttura sociale. Le ere paleolitica e neolitica hanno avuto un impatto profondo sulla storia umana, portando a una crescita demografica, all'emergere di nuove strutture sociali e alla diversificazione culturale. Questi periodi hanno gettato le basi delle civiltà future e hanno plasmato il corso della storia umana. Comprendere le nostre origini è fondamentale per comprendere il nostro presente e proiettarci nel futuro. Queste ere ci insegnano molto sull'adattabilità e l'innovazione umana, fornendoci preziose lezioni su come affrontare le sfide del nostro tempo. In conclusione potremmo affermare che le ere preistoriche descritte hanno plasmato il corso della storia umana in modo significativo. Dobbiamo apprezzare l'ingegno e la resilienza dei nostri antichi antenati, che hanno gettato le basi delle civiltà moderne. Vi invito ad approfondire ulteriormente questo affascinante argomento e condividere le vostre conoscenze. Grazie per aver seguito questo viaggio nel tempo, ci vediamo al prossimo video. Se il video ti è piaciuto, lascia un like e condividilo con i tuoi amici. Iscriviti al canale e attiva la campanella.